Capitano del Bargagli, Nappello, raccontaci un po' com'è andata oggi. Una partita per noi fondamentale, ne venivamo nel recupero di mercoledì, altra partita importante che fortunatamente abbiamo vinto, è andata bene, una partita maschia per una squadra che sapevamo che sarebbe venuta da giocarsi le proprie carte e con uno stimolo in più, visto i trascorsi, è una vittoria che è fondamentale per noi, sperando che ci dia qualcosa in più per continuare sempre meglio e cambiare il nostro campionato da qui alla fine. Dove può arrivare questo Bargagli secondo te? Non lo so dove possa arrivare, ora deve levarsi il prima possibile da dov'è e da dove era e cercare di andare avanti sabato per sabato perché più di questo non può farlo. Lo avevo già detto dopo una delle prime partite e lo ribadisco, che è una squadra che viene a guardare di sabato in sabato e magari fra uno o due mesi, quando inizierà a tornare il caldo, vedere in che posizione di classifica è agire e agire di conseguenza. Per il momento dobbiamo solo continuare su questa strada. Sabato prossimo contro la Voltrese, un match difficile. Squadra forte, l'affronteremo come meglio potremo e sicuramente questi sei punti qui ci danno un po' più di respiro e poi vedremo cosa dire al campo. Grazie.